Il sindaco Pasqualino Piunti ha presentato questa mattina lo show delle frecce tricolori che l'8 e il 9 giugno saranno a San Benedetto, lo ha definito un evento tra gli eventi? Sì, è un motivo di soddisfazione perché certifica che San Benedetto ancora una volta è una città capofila, noi abbiamo richiesto che queste frecce possano in qualche modo transitare anche in quei territori che sono stati colpiti tre anni fa dalla sisma e che noi abbiamo accolto qui nella nostra città, testimonianza del fatto che noi siamo la città dell'accoglienza, non solo turistica ma anche sociale e solidale. Questo evento porterà tante persone a San Benedetto, oggi è passato il Giro d'Italia, ci saranno amichevoli di russo in campo sportivo, mi riferisco a Italia-Russia di rugby, mi riferisco anche al fatto che siamo stati insigniti, sicuramente saremo insigniti dalla bandiera azzurra per meriti sportivi nel senso che organizziamo eventi di carattere sportivo, credo che San Benedetto stia dimostrando che c'è una voglia di coinvolgere e soprattutto di emergere e questo visto il coinvolgimento di tutte le associazioni, istituzioni e di tutti quanti quelli che hanno fatto sì che questo evento potesse vedere la luce è sicuramente di buon auspicio anche per fare sempre meglio. Grazie a tutti.